E' giallo a Istanbul sulla morte di James Le Mesurier, uno dei fondatori dell'organizzazione umanitaria dei caschi bianchi. Il suo corpo è stato trovato con mani e piedi fratturati all'esterno della propria abitazione. Si attendono i risultati dell'autopsia, ma la giustizia turca scarta la pista del suicidio. Scioccati i volontari della Siria Civil Defense, che elogiano il suo lavoro sottolineando che i siriani lo ricorderanno per sempre. Due giorni prima Mosca aveva accusato Le Mesurier di spionaggio e vicinanza ai gruppi terroristici svelando il suo ruolo di ex agente dei servizi britannici MI6. I caschi bianchi si sono resi protagonisti di numerosi salvataggi durante le incursioni aeree russe ad Aleppo. I loro video hanno fatto infuriare Mosca e Damasco che le accusano di fare disinformazione e propaganda a favore dell'Occidente. L'organizzazione non ha mai avuto problemi con il governo turco.